Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Cyclone by La Sportiva. Iniziamo solito con qualche dato fornito dalla casa. Abbiamo una scarpa pensata per Sky Race, che pesa 315 grammi nella versione 42, io ho un 47 e pesa 380-390 grammi. Abbiamo una scarpa con suola Fricks and White, sempre di La Sportiva, con una tomaia in mesh super traspirante, senza il calzino, ma con una guetta sulla parte posteriore. E poi naturalmente quello che caratterizza proprio la scarpa, il sistema BOA Fit per la chiusura. Ma andiamo subito ad analizzarla nel particolare. Partiamo dalla suola, come dicevamo, Fricks and White, la suola top di gamma per la casa La Sportiva. Una suola con un'alta tassellatura, che ci permette di poter correre molto agilmente su tutto il briciolino, la ghiaietta o comunque sul fango, perché con una suola così alta riusciremo sempre a far presa. E soprattutto sul fango, questa va a pulirsi molto velocemente. Mi è piaciuto molto il grip, top di gamma della Sportiva. Il grip è fantastico, sia su terreni completamente asciutti oppure completamente bagnati. Quindi suola, nulla da dire, mi piace il fatto che sia ad attacco a punta, perché ci aiuta anche con la rullata del piede. Passiamo ora all'intersuola. Abbiamo un drop di 8 mm, con un'altezza sul tallone di 28 mm e un'altezza sul punta di 20 mm. Non è per niente ammortizzante, la scarpa di realtà è abbastanza secca. Abbiamo all'interno uno stabilizer, un sistema stabilizzatore, che ci aiuta tantissimo nel momento in cui corriamo sulla roccia, perché anche mettendo il piede male, lo stabilizzatore va ad aiutarci ad avere grip e a tenere fermo il piede. Quindi per quanto riguarda veramente le Sky Race, questo stabilizzatore è una manna dal cielo. Aiuta tantissimo, soprattutto in discesa, nel momento in cui andiamo ad appoggiare il piede sulla roccia. Passiamo ora alla parte alta della scarpa, quella che forse è quella più interessante. Allora, come diciamo prima, troviamo un mesh con inserti in TPU molto traspiranti, soprattutto nella parte anteriore. Troviamo come sistema di chiusura questi due nastri, che sono abbastanza elastici, questi qua due fosforescenti. Mentre troviamo il Dynamic System, questo qua rosso in mezzo, che è quello che ci permette di andare a chiudere veramente molto bene la nostra scarpa col sistema Boafit. Questa calza come un calzino e la chiusura è veramente eccezionale, perché va a prendere in ogni sua parte le forme del nostro piede. Anche correndo ad alti ritmi o in discesa, il piede dentro non si muove, anzi, abbiamo soprattutto anche un ottimo spazio sull'avampiede per poter posizionare le dita di piedi. Quindi forse è un po' troppo, è una pianta forse un pochino troppo larga. Io rispetto ad altre là sportive l'ho trovata molto più larga. Parlando in generale del sistema Boafit, non è la prima volta che lo utilizzo. Io personalmente lo utilizzo da anni sulle scarpe da ciclismo e non mi ha mai dato problemi. È sempre il solito sistema Boafit, quindi andando a portarlo verso l'esterno, questo si apre e possiamo inserire il piede. Oppure chiudendolo e girandolo, questo andrà a stringere. E come diciamo, il modo in cui stringe sul piede è uniforme e molto confortevole. Passiamo ora un attimo alla ghetta, al posto della solita linguetta, che non dà assolutamente fastidio, anzi, avvolge veramente molto molto bene il piede. E non dà fastidio, cioè anche il dietro, insieme alla contraforte tallonare, non ci dà vesciche o problemi al tallone. Perché all'interno comunque troviamo, soprattutto sulla parte tallonare, un cuscinetto morbido che tutto integrato fa sì che il piede resti molto fermo e soprattutto molto comodo. Io l'ho utilizzato davvero su una gara di 24 ore alla VUT e mi sono trovato strabene. Parliamo del puntalino. Il puntalino, essendo sicuramente una scarpa da Sky Race, è veramente molto rinforzato. Possiamo, come dico io, prendere a calcio una roccia e non sentiremo assolutamente nulla. All'interno solita, soletta, orto light. Quindi anche qui andiamo di una garanzia. Quindi, tirando le somme per queste Cyclone, mi sono piaciute? Sì, molto. Per quanto riguarda le Sky Race, sono veramente eccezionali. Su terreni tecnici non credo che ci sia una scarpa, soprattutto grazie allo stabilizzatore, che siano così stabili su un terreno molto molto tecnico. Ho visto molti invece andare a utilizzarle per farci delle ultra, delle gare molto lunghe. Io personalmente non le consiglierei perché non sono abbastanza ammortizzanti, quasi per nulla. E lo stabilizzatore, in questo caso, tenderebbe a andare a correggere continuamente la posizione del piede e alla lunga potrebbe stancare il piede, se non farci venire anche qualche problema ulteriore. Perciò, ragazzi, nella speranza di essere stato esauriente e dosattivo, io vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo. Ciao!